Il parco dei labirinti di Ida Dainese. Claudine ritornò alla realtà riportando lo sguardo sull'amica. Allora a che stavi pensando? La rimproverò Laudelia cliccando sui pulsanti numerici a lato del tavolino. Un tubo di luce delicata scese dal soffitto e apparvero due profumatissimi caffè. Offro io se me lo dici? Precisò passando il palmo davanti alle tazze e guardò verso la cassa dove un led luminoso confermò il suo pagamento. Pensavo al parco dei labirinti. Ah ti sei divertita eh? Torniamoci. Andiamo di nuovo a Firenze o esploriamo qualcos'altro. Voglio tornarci da sola. Laudelia grottò la fronte e sorseggiò il caffè. Immaginava già cosa voleva fare Claudine e ne era un po' preoccupata. Avevano speso quasi tutti i loro led per riuscire a concedersi quella novità ma ora non le sembrava più che fosse stata un'idea così buona. Eppure quando l'agenzia di viaggi aveva aperto il nuovo ufficio dedicato al parco dei labirinti anche lei come l'intera città si era precipitata a sfogliarne il catalogo. In solito in un'epoca in cui ci si era abituati a qualunque itinerario sia reale sia virtuale sulla terra sulla luna perfino su alcuni pianeti. L'offerta proposta dal parco dei labirinti però era attraente anche se costosa e aveva risvegliato il desiderio in tutti. L'idea in fondo era semplice prendeva spunto dalla possibilità di piegare lo spazio tempo permettendo di tornare virtualmente a un qualsiasi momento della vita passata per riviverlo come reale. Si iniziava con un breve incontro preparatorio dove previo consenso l'agenzia cedeva ai dati mentali del richiedente e li analizzava nei particolari avendo cura di esaltare i ricordi più felici e di sbiadire quegli infelici realizzandone una versione fedele ma migliore. I dati venivano incisi in una scheda e dopo il pagamento archiviati in attesa che il cliente decidesse una data. Così Laudelia e Claudin avevano scelto un viaggio fatto in gioventù e avevano rivissuto quella bellissima settimana in Italia. Era stato facile erano entrate senza bisogno di alcuna valigia erano state accolte alla reception con un cocktail di benvenuto e accompagnate al parco. Un vero parco con alberi frondosi una cascatella nascosta tra l'erba e le aiuole di fiori e diverse panchine poste all'ombra dove furono invitate a sedere e ad attendere qualche minuto. Non ne ebbero mai coscienza ma in quei minuti subirono un processo di smaterializzazione che le trasferì in un'altra stanza dove rimasero per tutto il tempo su barelle di rete sospese con innumerevoli minuscole sonde distribuite sulla pelle dalla testa ai piedi. L'effetto su di loro fu sorprendente un assoluto autentico viaggio nel tempo. Vissero tutto come allora la corsa all'aeroporto il volo l'atterraggio all'albergo le feste i ragazzi erano felici erano più giovani più in forma insomma avevano 50 anni di meno. Claudine sorrideva sempre a quel tempo il cibo era delizioso il sole fantastico. Laudelia non si era scottata come allora la sua pelle aveva un bel colore abbronzato appena arrossato e anche la notte che aveva trascorso con quel ragazzo era stata frizzante e romantica. Perfino il mal di testa del dopo la sbronza era stato ridotto a un leggero fastidio. Dopo sette giorni si erano ritrovate nel mondo reale due signore settantenni sedute sulla stessa panchina. Laudelia euforica aveva preso Claudine sotto braccio e insieme erano uscite dal parco accompagnate dal sorriso robotico della receptionist. Beh che ti è sembrato? aveva chiesto Laudelia una volta fuori. Strano così vero così autentico aveva mormorato Claudine guardandosi le mani. Le era tornata in mente sua nonna morta a 70 anni. Lei e Laudelia avevano la stessa età ma grazie a progressi medici i loro corpi erano fermi appena ai 40. Senti senti prima di andare a casa faccio un salto in palestra per scranchirmi. Ci vediamo domani alla caffetteria dopo il lavoro. Claudine aveva annuito e si era diretta verso casa camminando una cosa che nessuno ormai faceva più. Si poteva correre per mantenersi in forma ma per muoversi si usavano le ASGA auto sicure a guida automatica dove ci si sedeva in comode postazioni che permettevano di collegarsi al lavoro agli amici a una caffetteria o a un ristoro a un museo del libro o del cinema così da sfruttare ogni istante. Camminare era sconsigliato rubava tempo ai programmi del giorno e lasciava vagare la mente verso visioni del passato pensieri inutili e fantasie cose che invece affascinava Claudine. Quella vacanza appena rivissuta l'aveva impressionata molto, un viaggio virtuale eppure più concreto della vita che stava vivendo. Sentiva ancora in bocca il sapore del cibo e delle bevande, sulle dita quello che aveva toccato con le mani, nella testa quello che aveva visto con gli occhi. Era quella la promessa, esaltare il bello e sbiadire il resto, uno splendido restauro ai ricordi per vivere poi una realtà migliore. Claudine non era d'accordo, la realtà non cambiava perché non era un vero viaggio nel passato, solo un drogarsi di ricordi belli. Fu in quel momento che le venne l'idea ma non era sicura che ne avrebbe parlato all'amica il giorno dopo. So dove vuoi andare, disse Laudelia posando la tazza. Claudine distolse di nuovo lo sguardo. Di là del vetro, le asga si muovevano veloci e sicure, eleganti come ballerine, precise come ingranaggi. Erano loro adesso a occupare le strade giorno e notte e da quando c'erano la mortalità per incidente stradale si era azzerata. Sai, quando sono state introdotte, chiese come si parlasse al vetro, ma l'amica capì ugualmente. Una quarantina di anni fa, 39 anni e 8 mesi. Già, quindi l'incidente era avvenuto 42 anni prima. Claudine non puoi cambiare il passato, alla fine ritornaresti sempre qui, ora. Non è già abbastanza difficile. Potrei scegliere un giorno diverso, una domenica al lago, l'estate precedente. Voglio solo rivederli, stare insieme a loro, godermeli e ricordarli meglio. A ritorno ti sentirai più triste, vedrai. La settimana dopo Claudine prese appuntamento, incise la scheda per i ricordi, recimolò i led necessari e prenotò il suo viaggio. Beve il suo cocktail, sedette sulla panchina e chiuse gli occhi. Li riaprì nella cucina della sua casa, di 42 anni prima, all'alba di un giovedì piovoso. La prima cosa che avvertì fu un po' di nausea, poi un uomo si chinò su di lei. «Ciao, amore, ti sei alzata presto? Ancora nausee?» Dei della scienza, com'era giovane e bello, con quella luce negli occhi mentre la guardava. Non poteva fare a meno di abbracciarlo e stringerlo, per assaporare tutta la concretezza di quel corpo. La piccola Malvin, quella che sarebbe dovuta essere Malvin, le sussultò nel grembo, protestando per lo spazio ridotto. Al piano di sopra i gemelli schiamazzavano in disaccordo. «Daniel, Eric, venite subito giù e non fate arrabbiare la mamma!» Com'era bella la sua voce, com'era bello sentirla risuonare intorno a lei. I bambini arrivarono correndo, con i vestiti in disordine, affamati e ciarlieri. Li abbracciò entrambi, aspirando il loro odore, baciando i loro capelli, memorizzando la delicatezza della loro pelle, lasciandosi strattonare ora dall'uno, ora dall'altro, ascoltandoli tutti e due allo stesso tempo. «Come vorrei venire a scuola con voi!» Le loro risate riecheggiarono nella cucina e le fecero compagnia anche dopo che furono usciti. Lei passò da una stanza all'altra, adagiandosi nei loro letti, aprendo i cassetti e gli armadi, toccando le loro cose, guardando le foto. Fuori la pioggia continuava. Infine si preparò, scese e poi uscì per andare a dal medico. L'ecografia avrebbe confermato che si trattava di una bambina e lei sarebbe dovuta andare a far compere in quel negozio, in centro, mentre suo marito passava a prendere i bambini a scuola. Almeno così era avvenuto allora. Aspettava a casa quando erano venuti ad avvisare dell'incidente. Era corsa all'ospedale, ma tutto ciò che le rimaneva era lo strazio dell'ultimo respiro dell'uomo, il riconoscimento dei corpi dei gemelli, con i loro visetti sfregiati, le gambe spezzate, il malore che le avrebbe fatto perdere la bambina e i lunghi anni che sarebbero trascorsi. Questa volta Claudine non entrò nel negozio. Si diresse invece verso l'incrocio, da dove sarebbe passato suo marito. Si concentrò, per cambiare i suoi ricordi come aveva fatto all'agenzia, per convincere la sua mente che era così, che doveva avvenire proprio così. Aspettò sotto la pioggia finché lo vide arrivare e allora chiuse l'ombrello e alzò la mano chiamandolo, facendogli cenno di accostare. Che fai con questo tempo? Non dovevi aspettarci a casa? Va tutto bene? Claudine chiuse la portiera e gli diede un bacio che sapeva di pioggia e di felicità. Oh sì, va tutto bene. È in arrivo una sorellina e noi saremo insieme per sempre. Sul sedere posteriore i gemelli saltarono e risero e lei allungò le mani verso i loro visi perfetti e li baciò ridendo. Sì, vi ho salvati, ci sono riuscita, vi ho salvati. Poco lontano all'incrocio ci fu un incidente. Un'auto articolata fuori controllo investì diverse vetture. Scivolò stridendo sull'asfalto bagnato e con uno scoppio abbacinante si abbatté sull'auto accostata. Laudelia uscì dal lavoro e prese l'asga per l'ospedale. La stanza dove riposava l'amica era luminosa e silenziosa, gli occhi chiusi, l'aspetto rilassato, un'ombra di sorriso sulle labbra. Non si era più risvegliata da quel viaggio. Aveva venduto la sua casa per poterselo permettere, come se avesse programmato di non tornare. Aveva trovato una sostanza nel suo corpo, qualcosa che Claudin aveva assunto prima di entrare nel parco dei labirinti e le aveva causato danni agli organi e un coma irreversibile. Le analisi cerebrali dimostravano tuttavia un'attività anomala e ripetitiva che illuminava debolmente alcune zone del suo cervello. La diagnosi stabiliva che la donna era prigioniera di un ricordo che continuava a riproporsi.